Mario Sacco, presidente di Conf Cooperative, qui primo giugno 2024 alla cantina sociale Barbera del Secastelli per degustare questo Marengo Doc, che è buonissimo presidente, vero? Sì, molto buono e devo dire è stato valorizzato molto il Cortese, quindi con un vino spumante che andrà senz'altro a interagire col mondo non solo del vino ma anche culturale e artistico con la realizzazione di questo magnifico punto vendita. Ecco, presidente, però parliamo, va bene, vino Marengo Doc, fantastico, il centro enoturistico è spettacolare, questo della cantina, però parliamo di cooperative. Insomma, le cooperative stanno crescendo e stanno diventando, è un po' che lo diciamo, adulte, no? Sì, devo dire che c'è stato un grande salto di qualità dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione e della valorizzazione di un territorio eccezionale, quindi unire l'economia, la cultura, l'arte e il turismo credo che sia fondamentale. In più queste nostre cooperative sono cresciute proprio come immagine e questo è importante perché il settore della cooperazione sui nostri territori è fondamentale, è un ruolo vincente perché unisce tanti produttori, tante realtà che da solo non sarebbero in grado di poter andare sui mercati, ma che ormai in un discorso di internazionalizzazione abbiamo delle cooperative veramente importanti e stanno dimostrando che il settore della cooperazione può competere con gli altri settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, quindi viva la cooperazione. Ecco Presidente, ci faccia sognare, quindi le cooperative non sono più quel polmone a servizio dell'industria, vinicola sto dicendo, ma stanno diventando qualcosa di diverso, di più adulto? No, no, perché hanno ormai dei centri di ricerca, di innovazione, di valorizzazione, di commercializzazione decisamente autonomi, fanno rete, noi abbiamo un'associazione che ormai in Piemonte le nostre cantine trasformano il 40% delle uve, quindi hanno un mercato eccezionale, ma che tendono a promuovere e soprattutto commercializzare a livello internazionale direttamente. Senta Presidente, l'ultima cosa, un augurio alla Cantina Barbera e Secastelli, ma a tutte le cooperative. Ma sì, io sono convinto che la cooperazione è il fenomeno territoriale, culturale e direi sociale, perché comunque l'aspetto anche della solidarietà è soprattutto di lavorare in modo intergenerazionale, cioè lavorare per i nostri figli. Grazie. 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 Grazie.